È un ragazzo che si mette sempre in discussione, è molto competitivo in tutte le cose che fa, lo dimostra i risultati che ha fatto perché nessuno gli ha regalato niente. È un campione, campionissimo che si è costruito con il lavoro e il sacrificio e sicuramente è un ottimo esempio per i giocatori, anche quelli più giovani. E comunque alza l'asticella della competizione.